Salute a te, fantastico! Benvenuti ai due inibiliaciati. Hai due occhi pericolosi, mi piace. Ho una buona sensazione. Medio inibiliazione. Mio inibiliazione. Ehi, hai! Lati da non vedi! Non è un problema. Concentrazione. Sei sicuro di sapermi gestire le botaniche? Non è bastato l'uscita. Forza! La tua squadra è dotata in livello. Non ti esaltare. Un alleato è stato ucciso. Solo la sua madre non ha scacciato il trinitore. La squadra non ha evocato il trinitore. Concentrazione. Hai due occhi pericolosi. Mediante. Non ti esaltare. 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 Sei stato ucciso. Un nemico è stato ucciso. Un nemico è stato ucciso. Perciò... Un nemico è stato ucciso. Il terzo è stato ucciso. Un nemico è stato ucciso. So, quel che faccio. Sto risolvendo il freno. L'uccisione è lì. Forza! Non sono altro che nozze. Ah, dai! La squadra è scambolita. Non è stato ucciso. Sei stato ucciso. Serie d'uccisioni del nemico. La cosa più strana del vero ghiaccio è che non si scioglie mai. Sei sicuro di sapermi gestire, evocatore? Concentrazione. assicurata. Sì, oltre a venire. Ho una buona sensazione. Sì, non è vero. Sì, è vero. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.